Tra le case di Babbo Natale qui a Taranto in piazza Garibaldi anche la Coldiretti, ma la Coldiretti come altre realtà produttive e sociali del territorio, però la zona sembra un po' decentrata. Sì che è decentrata, perché se noi in tutte queste casette stavamo in un passaggio dove la gente passava davanti, forse apprezzerebbero di più, perché noi ci mettiamo tutta la buona volontà per esporre i prodotti genuini e poi con una buona iniziativa di spiegare a tutti quanti le api, i benefici che fanno anche all'uomo. Certo, se fosse stata fatta. Se fosse stata fatta. Anche piazza immacolata. Anche piazza immacolata i risultati sarebbero stati più eccellenti, ne sono convinto. Qui vediamo oltre la zona proprio fredda, ma proprio poche casette. Poche casette perché ognuno magari si è tirato indietro, perché negli anni precedenti si è fatto di nuovo queste manifestazioni, ma vanno avanti sempre così.